Ho passato una vita a combattere Cosa Nostra. Qualcuno mi ha addirittura definito un eroe. Lo sappiamo tutti qual è il destino degli eroi. Un giudice è Cosa Nostra. Colpevole! E siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. Io nessuno.